Musica ...per attirare maggior turismo in città. Assolutamente sì, sono molto contento che tantissime, tante radie anche nazionali abbiano acceso l'attenzione sulla nostra città, mi stanno intervistando, molti giornali, oggi è uscito un articolo su Vanity Fair ma non è l'unico giornale che ci ha dato spazio. Spero che porti fortuna alla nostra città, abbiamo bisogno di tanti turisti anche e soprattutto per chi ha esercizi commerciali in città, non soltanto ristoranti e bar ma anche negozi. E sono certo che questo gran numero di persone che hanno scelto in questi weekend di venire a Monza sicuramente decideranno di passare la serata nella nostra città e faranno acquisti nei nostri negozi. Oggi in particolare ci siamo trovati appunto per formare l'albero di Natale vivente, un'iniziativa che è la seconda edizione, siamo partiti lo scorso anno ed era stato un grande successo, ma anche quest'anno è stato bello appunto riscaldare e illuminare Monza con l'atmosfera dell'albero Natale vivente. Questo significa appunto radunare il maggior numero di persone, saremmo stati dalle 300 alle 400 persone che sono andate a formare appunto un albero di Natale con dei gadget luminosi e insieme abbiamo cantato le canzoni più famose del Natale. Questo ha illuminato Monza, ha riscaldato l'atmosfera e appunto è stato bello, anche per me è una vera emozione poter vedere la gente allegra, a godersi questa atmosfera di una Monza luminosa e veramente natalizia devo dire. Finalmente Monza da due anni a questa parte respira l'atmosfera del Natale, per troppi anni in passato c'era tantissima tristezza, il Natale non è soltanto luci, comprendo che è fondamentale anche essere vicino a chi è solo, a tal proposito ricordiamoci perché ognuno di noi conosce una persona che magari sta attraversando un momento difficile, bene invitiamola con noi o il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, non lasciamola da sola.